Significativa operazione della polizia locale nei quartieri spagnoli finalizzata alla rimozione di paletti abusivi e carcasse di auto e moto. Questa mattina gli agenti delle unità operative avvocata e motociclisti con il supporto di Napoli Servizi hanno rimosso 102 paletti abusivi ed una grande pedana in ferro. Dai vicoli dei quartieri sono state rimosse anche 13 fioriere e prelevati con i carri gru 19 veicoli tra auto e moto da tempo abbandonati. 9 invece le auto portate in deposito perché in divieto di sosta che rendevano difficoltoso il passaggio anche pedonale. Abbiamo un servizio che ci consente oggi di procedere a questa attività di rimozione. È un piccolo grande esempio dell'attività della Polizia Municipale, Polizia Municipale molto impegnata in una città difficile e complicata. Sicuramente noi proseguiremo in questa attività di piccole e grandi operazioni di servizio anche sulle aree particolarmente degradate e le aree della movita in questa città che è un tema estremamente sensibile. Io ringrazio la Polizia Municipale per l'impegno e il lavoro che sta portando avanti e che sarà portato avanti anche in piena sintonia con le altre forze di polizia. L'intervento di oggi segue quello effettuato il 23 ottobre sempre ai quartieri quando con la Napoli Servizi furono rimossi 39 paletti abusivi e 5 fioriere.